Ciao ragazzi, salve a tutti, bentornati in questo nuovo video, andiamo a vedere come utilizzare i dispositivi di lancio dobbiamo utilizzarne tre, io già ne ho utilizzati due quindi andiamo a pingare sulla nostra mappa e vediamo come utilizzare questi dispositivi scendiamo e vediamo, ok ragazzi, mentre scendiamo ci avviciniamo al dispositivo guardate, vedete che il fumo va da una parte e non dall'altra, bene dove va il, chiamiamolo fumo, è dove saremo spediti noi con il balzo ecco, dobbiamo farlo tre volte, io due già le ho fatte quindi andremo sopra, saltiamo e quindi la terza volta per me la missione ragazzi è già completata ecco, dopodiché perdo un pochettino di tempo però ragazzi, la missione è finita io vi posso salutare, vi do appuntamento alla prossima missione mi raccomando, condividete un bel mi piace iscrivetevi al canale ciao 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 ciao